Grandi vittorie, titoli mondiali, gloria eterna. Questo è quello a cui ambiscono, che sperano, molti piloti che intraprendono la strada delle corse. Obiettivi e sogni che probabilmente non si avvereranno mai. La storia del pilota di oggi invece parte da un altro tipo di sogno, molto più complesso e difficile da realizzare. Quello di essere il primo pilota in assoluto a rappresentare il proprio paese in Formula 1. E se pensiamo che questo paese è l'India, un paese con una cultura automobilistica sicuramente molto inferiore rispetto ai grandi paesi europei o all'America, è veramente un'impresa ardua. Ma lui alla fine ci è riuscito. Quindi bentornati in un nuovo episodio di Piloti Dimenticati e oggi parleremo di lui, di Narain Kartikeyan. Bentornati sul canale della Formula 1 Dimenticata, come sempre sono Andrea e bentornati dalle ferie, che bello. Comunque eccoci qua pronti per un nuovo video, una nuova puntata di Piloti Dimenticati. Prima, per chi sta guardando questo video in tempo reale, il 27-28 agosto ci vediamo a Imola al Minardi Day. Non mancate, andate sul profilo del Minardi Day per vedere quali vetture saranno in pista. Io ogni volta che lo faccio vado in estasi mistica, non vedo l'ora di essere là, non vedo l'ora di incontrare tutti voi che avete detto che ci sarete. Quindi ci vediamo a Imola. E per adesso, però, l'unica raccomandazione da fare è solo quella di iscriversi al canale perché stanno per arrivare nuovi video spaziali. E lo dico io che li sto registrando, quindi lo dico a ragion veduta. Nonché la seconda parte della storia della Toyota, che uscirà il 7 settembre. Quindi segnatevi con un bel cerchio rosso la data sul calendario, che in quel giorno voglio vedere esplodere il canale. Andiamo avanti, storia di Narain Kartikeyan. Il nostro protagonista nasce in India il 14 gennaio 1977 e suo padre era un grande appassionato di corse e di rally, tanto che ogni tanto si cimentava in competizioni regionali o nazionali e è arrivato a vincere ben sette volte il rally dell'India meridionale. La grande passione del padre fu la scintilla che diede il via alla passione del figlio che iniziò a correre in formula Maruti. E voi vi chiederete, ma che cosa è? Cosa? Formula Maruti? Maruti l'inquilino del piano di sotto? No. Allora, la formula Maruti è una competizione nazionale indiana, ovviamente. La competizione motoristica di cui non sapevi di aver bisogno e della quale appena finito questo video andrai a vederti tutte le gare su YouTube. In India, chiunque voglia cominciare una carriera motoristica deve passare per forza da questa serie e Carty-Keyan fa proprio questo. A 15 anni ha ottenuto qualche buon risultato e decide che per il prosieguo della sua carriera è meglio trasferirsi all'estero. Carty-Keyan approda in Francia, dove inizia a frequentare la scuola Volant Renault Elf, partecipando nel 1992 alla Coppa Volant Elf di Formula Renault, arrivando alle semifinali. Terminata questa esperienza, torna in India vincendo la sua prima gara di Formula Maruti. In questo periodo riesce anche a trovare qualche sponsor per finanziare la sua carriera e quindi lo troviamo a correre nel 1994 in Formula Ford Zetec e nel 1996 in Formula Asia, dove conquista 10 vittorie su 14 gare e il titolo, diventando il primo indiano e il primo asiatico a riuscire in questa impresa. Carty-Keyan comincia a girovagare per diversi campionati. Nel 1997 lo troviamo in Formula Opel, dove vince la gara di Donington, mentre nell'anno successivo comincia la sua avventura in Formula 3 britannica, che durerà complessivamente tre stagioni e in cui vince quattro gare. Al culmine di queste stagioni, in Formula 3 partecipa al prestigioso Gran Premio di Macao nel 2000, dove fa segnare la pole position, ma in gara la vittoria sfuma per un errore che lo fa andare a sbattere contro il muro. Nel 2001 si iscrive in Formula Nippon, ma nello stesso anno arriva una grande occasione. La Jaguar ha indetto un test per giovani piloti e Carty-Keyan è tra quelli scelti. Così, a giugno del 2001 esaudisce finalmente il suo grande sogno. Per la prima volta si mette al volante di una vettura di Formula 1 sulla pista di Silverstone. E voi vi chiederete, beh, come andò questo test per Carty-Keyan? Beh, andò... benino... Vabbè, era la prima volta, ci sta, non avere anche confidenza con la vettura, è normale. Arriva anche una seconda chiamata della Jordan, questa volta sempre per lo stesso motivo, un test per giovani piloti che si effettuerà sempre a Silverstone nel settembre 2001. E voi vi chiederete, ma come andò questo test nel settembre 2001? E anche qui si difende bene, insomma, è andato... Nel 2002 Carty-Keyan approda in Nissan World Series e in questo periodo riesce finalmente a trovare un munifico sponsor, ovvero la Tata. No, non questa Tata. Neanche questa, intendo la Tata Motors, la compagnia automobilistica indiana. Alla fine del 2003, dopo due stagioni in Nissan World Series coronate da cinque podi, arriva un'altra occasione per la Formula 1. La Minardi ha indetto anch'essa un test per giovani piloti da effettuarsi sul circuito di Vallelunga. E voi vi starete chiedendo come andrà questa volta un altro test in Formula 1, il terzo della sua carriera? Allora, non ho trovato foto di lui nella sabbia, quindi direi meglio. Anzi no, perché un problema meccanico lo costringe a effettuare soltanto pochi giri, facendo segnare alla fine un tempo 6 secondi più lento di quello di Jimmy Bruni. È stato bello tornare su una vettura di Formula 1, anche se questa mattina è stato solo per alcuni giri. Vorrei ringraziare Paul Stoddart e il team per avermi dato questa opportunità e spero il test di oggi incoraggerà alcune società indiane a sostenere i miei sforzi per assicurarmi un posto in Formula 1 nel 2004. Sarà così? Sì, purtroppo di chiamate non ne arrivano e quindi per la stagione successiva, anziché la Formula 1, Carty-Keyan è costretto a rimanere in Formula Nissan, dove però coglie i suoi primi due successi. Quindi una crescita c'è. Nel 2005 però finalmente il telefono squilla e dall'altra parte c'è Eddie Jordan, che con la sua scuderia avversa in condizioni economiche a dir poco disastrose e ha assolutamente bisogno di un pilota pagante che gli consenta di effettuare tutto il campionato senza troppi problemi. E quel pilota pagante è proprio lui, è Narain Carty-Keyan, che esaudisce così il suo grande sogno, quello di essere il primo pilota indiano a correre in Formula 1. A fianco di Narain ci sarà il portoghese Tiago Monteiro, anche lui al debutto. La vettura però è veramente poco competitiva e in più i regolamenti di quell'anno vietano i cambi gomme in gara e in quelle condizioni le gomme Bridgestone sono a dir poco disastrose. Oh, finalmente è arrivato quel momento del video in cui il pilota di cui vi stiamo parlando comincia a fare figuracce su figuracce e viene massacrato dalla stampa da tutti. Come? Come? Si qualifica dodicesimo davanti a Monteiro, davanti anche a Michael Schumacher e Fernando Alonso. Ma che cosa? What? Bro, what are you talking about, man? Ok, 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 calma. Schumacher e Alonso ebbero chiaramente dei problemi, ma ciò non toglie che la prestazione di Carty-Keyan fu eccellente. Eccellente. In gara però il ritmo non è a livello degli altri e complici anche le coperture poco competitive e l'indiano si dovrà accontentare del quindicesimo posto finale davanti comunque al compagno di squadra. E le successive gare vanno anche abbastanza bene. Riesce comunque a finire sempre davanti a Monteiro e riesce sempre a tagliare il traguardo tranne quando la vettura lo abbandona come a Monaco o in Bahrain o in Canada. In Spagna poi compie una leggera escursione sull'erba rientrando in pista proprio mentre sopraggiungeva il compagno che lo evita di un niente andando fuori anche lui. Chissà come starà stato contento Eddie Jordan di questa manovra. Comunque di lui Cesare Fiorio dice Diciamo che in Formula 1 sono arrivati piloti sicuramente molto molto peggiori di loro. Detto questo Kartikeyan è un pilota velocissimo, velocissimo sul giro singolo. È un pilota per contro abbastanza inaffidabile quando è nella mischia, nel gruppo dei concorrenti. Pertanto è un pilota un po' da tenere d'occhio e da tenere un po' calmo perché soprattutto nel contatto ravvicinato con gli altri è un po' a rischio. Si arriva così al famoso Gran Premio degli Stati Uniti 2005, la gara in cui tutti i gommati Michelin dopo il giro di formazione boicottarono la corsa ritirandosi in massa e facendo restare sulla griglia solo le sei vetture gommate Bridgestone, le Ferrari, le Jordan e le Minardi. Se vi siete persi il racconto di questa gara incredibile lo trovate qui. Kartikeyan si deve quindi lottare con il suo compagno di squadra e con le due Minardi il terzo gradino del podio perché le Ferrari sono imprendibili ma c'è un posto ambitissimo, il terzo posto, che darebbe gloria eterna a chiunque lo conquisterà. Le due macchine di faenza sono in piena fase calante, dunque non sono un problema e quindi la terza posizione diventa una lotta a due fra le due Jordan. Ora, purtroppo per Kartikeyan in quel giorno Monteiro ha un passo migliore e quindi sarà lui a conquistare il terzo posto perché per evitare una lotta fratricida che avrebbe potuto portare fuori entrambe le macchine il team decide di congelare le posizioni regalando così al portoghese il primo e unico podio della sua carriera in Formula 1 mentre Kartikeyan si deve accontentare del quarto posto che sono comunque cinque punti ridati. Non ci saranno inevitabilmente altri acuti di questo genere nel corso della stagione anche perché le Jordan sono nettamente le vetture più lente in griglia a eccezione solo delle Minardi e quindi i due piloti non possono fare un granché. Nelle ultime due gare però arrivano due inattesi lampi dell'indiano in qualifica. A Suzuka in una pista difficile si qualifica in un'incredibile undicesima posizione mentre in Cina strappa il quindicesimo tempo dando però due secondi al compagno di squadra. In questa gara però arriva anche il suo primo ritiro per incidente. Va a sbattere infatti al curvone che immette nel lunghissimo rettilineo per fortuna senza riportare conseguenze. La stagione finisce e con il passaggio di proprietà della Jordan alla Midland per lui non c'è più posto per l'anno successivo. Kartikeyan allora si accorda con la Williams di cui diventa test driver per due stagioni correndo al contempo nella neonata A1 GP la serie in cui le vetture sono associate alle nazioni cogliendo due successi. Con il mancato rinnovo nel 2008 per la Williams le occasioni in Formula 1 per Kartikeyan sembrano definitivamente tramontate. Nel 2009 fa parte dell'equipaggio di Colin Colles per la 24 ore di Leumann a bordo della Audi R10 TDI e qui, e qui, preparatevi perché la storia che sto per raccontarvi è quanto di più surreale voi possiate immaginare sentite qua. Il sabato, un'ora circa prima della partenza, Kartikeyan ha un improvviso stimolo nelle parti basse e vabbè insomma avete capito di cosa si tratta. Quindi decide in tutta furia di scavalcare il muretto dei box e precipitarsi in bagno ma scivola e cade malamente lussandosi la spalla sinistra e quindi non potrà prendere parte alla gara. L'indiano è ovviamente imbarazzato e molto deluso. Il muretto dei box era piuttosto alto per motivi di sicurezza e che posso dire, sono il pilota più sfortunato della storia di Leumann. Sì, ma potevi anche fare il giro, credo, credo, non lo so. Nel 2010 prende invece parte alla Formula Super League un campionato particolare in cui le vetture sono associate questa volta alle squadre di calcio. Magari in futuro ne parleremo perché è una cosa che mi ha sempre fatto molto sorridere. Comunque Kartikeyan coglie un successo anche qui con la macchina del PSV Eindhoven. Quando sembra che la strada che porti alla pensione sia in discesa dal nulla, letteralmente dal nulla, arriva la chiamata della HRT. La scuderia ha versato in condizioni economiche disastrose ma già dalla sua nascita abbiamo raccontato la storia in questo video e quindi ha disperato bisogno dei soldi dello sponsor di Kartikeyan che tra l'altro è l'unico che si vedrà apparire sulla livrea. A coronamento del tutto la monoposto è davvero pessima tanto che né Narain né il suo compagno di squadra Vito Liuzzi riusciranno a qualificarsi in Australia finendo entrambi fuori dal 107%. Per dire l'ultimo a riuscire in quest'impresa era stato Alex Young nel 2002. Tutto dire. La stagione è a dir poco un calvario. Kartikeyan è sempre costantemente nelle ultime posizioni e viene battuto anche dal compagno Liuzzi dal compagno Liuzzi sembra una roba... Comunque Liuzzi lo batte anche nel suo punto forte, la qualifica segno che gli anni passati fuori dalla Formula 1 pesano e non poco. Al Gran Premio d'Europa sulla pista di Valencia poi Kartikeyan stabilisce uno di quei primati che nessuno vorrebbe avere. Per la prima volta in quella stagione infatti non ci sono ritiri e finendo ultimo Kartikeyan stabilisce il record per il pilota che si è classificato nella posizione finale più bassa di sempre ventiquattresimo. Kartikeyan stabilendo questo infausto primato scalza dal podio proprio Narain Kartikeyan che aveva stabilito lo stesso primato al Gran Premio della Cina arrivando ventitresimo. Eeeh che dire, è uno che vuole sempre migliorarsi. Ma volete sapere di chi era il record precedente? Di Narain Kartikeyan! Dopo questa perla, l'indiano, a causa anche del cambio di proprietà del team viene sostituito da Daniel Ricciardo che fa il suo esordio nel circus sulla pista di Silverstone. Relegato a disputare solo le prove del venerdì Kartikeyan torna in pista al posto di Liuzzi per il suo Gran Premio di casa, il Gran Premio d'India dove un pilota indiano non poteva proprio mancare. Il protagonista dichiara Il primo giro è stato molto speciale è così emozionante guidare in India non potevo crederci c'erano così tante cose che si affollavano nella mia mente. Narain, spinto dal calore del pubblico fa anche una discreta prestazione si qualifica a soli 22 millesimi da Ricciardo ma si prende 5 posizioni di penalità sulla griglia per aver ostacolato Michael Schumacher durante le Q1 e deve partire ultimo. In gara poi arriverà in 17esima posizione. La stagione finisce e non finiscono le difficoltà economiche dell'HRT che vorrebbe puntare su un pilota più competitivo ma è costretta tra virgolette ad affidarsi ancora una volta ai soldi dello sponsor di Kartikeyan che viene confermato per il 2012 a fianco di Pedro della Rosa. La prestagione però si limita a pochi giri durante un filming day e tra l'altro i crash test vengono inizialmente falliti ottime premesse che non possono che portare praticamente allo stesso risultato dell'anno prima a Melbourne nessuna delle due vetture riesce a qualificarsi in Malesia però arriva l'occasione della vita per Kartikeyan la gara parte con condizioni meteo incerte tutti montano le intermedie ma man mano la pioggia si intensifica tanto che i piloti rientrano a montare le full wet rientrano tutti tranne Narain Kartikeyan che rimane in pista con le intermedie finché per la pioggia troppo forte non viene data bandiera rossa in quel momento il pilota indiano si trova in decima posizione ovvero in zona punti forse è per quello che ha piovuto così tanto ecco è un'occasione irripetibile ma alla ripartenza Kartikeyan rovina tutto andando prima in contatto con Button e poi toccando Vettel che diciamo non la prende proprio benissimo questo contatto gli vale 20 secondi di penalità a fine gara e la ventiduesima e ultima posizione finale quando a fine gara gli dicono che Vettel lo ha definito un cetriolo idiota la prende bene è completamente non professionale accusarmi per l'incidente e il gestaccio lo mette solo in cattiva luce solo perché una buona vettura non può chiamare gli altri idioti ho vinto delle gare in tutti i campionati di monoposto in cui ho corso in precedenza quindi non ho bisogno di un certificato da parte di Vettel la stagione priva di uno sviluppo della vettura che sia uno procede male Kartikeyan viene costantemente battuto dal compagno di squadra in qualifica e in gara non riesce minimamente a stare al suo passo prendendo quasi un secondo al giro al gran premio del Belgio in gara è tredicesimo dopo che Grosjani in partenza ha fatto fuori mezzo schieramento ma esce di pista andando a sbattere contro le barriere al giro 29 e concludendo la gara forse per un problema alla sospensione a Singapore invece va a sbattere contro un muretto al giro 30 quando era costantemente ultimo la stagione culmina nelle ultime gare con addirittura il pilota indiano che è costretto a correre con pezzi usurati perché non c'erano più ricambi una cosa pericolosissima che si riflette nell'incidente di Abu Dhabi Kartikeyan infatti sta per essere doppiato da Nico Rosberg quando un problema idraulico gli causa un rallentamento improvviso il tedesco non riesce a evitarlo e lo centra in pieno volandogli letteralmente sopra per fortuna senza nessuna conseguenza per entrambi a fine stagione la HRT chiude i battenti e così si chiude anche la carriera dell'indiano in Formula 1 nel 2013 torna nella A1 GP con il team Supernova dove coglie 5 successi passando poi alla Formula Nippon con però risultati deludenti nel 2019 dopo 5 stagioni approda la Super GT giapponese per poi nel 2021 correre con il team India nella Asian Le Mans Series categoria che si è vinta da accesso alla partecipazione alla 24 ore di Le Mans cosa che lui vuole assolutamente raggiungere per vendicare l'episodio che gli è accaduto in precedenza da tempo sogno di tornare a Le Mans questo è il progetto probabilmente più entusiasmante della mia carriera al momento questo sogno non si è concretizzato perché è finito sesto in campionato ma Narain è già riuscito nell'impresa di far diventare realtà un sogno che sembrava impossibile dove se riuscirci un'altra volta non ne saremmo così sorpresi pensateci Narain Kartikeyan l'uomo delle imprese impossibili che diventano realtà l'avreste mai detto?